E' davanti E' Johnston Ecco E' Johnston, bravissimo E' Johnston, bravissimo Altraguardo Bravo, bravissimo E' Johnston Va' è fortissimo, bravissimo E' andato veramente forte E' però Allora 35-55 E' De Ruccio Perraro Non ha fatto il po' Bravissimo E' De Ruccio Bravo, bravo E' De Ruccio Non ha fatto il tempo dell'anno scorso Bravissimo Comunque bravo lo stesso Bravo E' De Ruccio Bravo E' De Ruccio, bravo Beppe Terza posizione Bravissimo, grande Beppe Ottima prestazione Sono contento per Beppe Veramente con Bravissimo Beppe Ecco, quarta posizione In questo momento Quarta posizione Bravo per questa atleta Che non è scritta a piena d'oro Come ti chiami? Colunzi Gianni Bravo Gianni Prima partecipazione a questa gara Sì perché vengo da Belluno Bravo, bravo Complimenti Da Belluno Complimenti allora E' ecco il nostro Ferdi Contro per Nando Bravissimo Bravissimi Bravi ragazzi Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 atleti al traguardo In questo momento 7, bravo Patrizio E' vero Patrizio All'altro runner Bravo Un altro atleta al traguardo Bravissimo E' vero Patrizio Settimo Bravo Eccoli Eccoli Carrippo Oggi sei nei premi Oggi sei in oro Ma sei nel tre Sei in oro Sei in oro Matteo E' rossi aperto Bravissimi in questo momento abbiamo 10 attenzioni il piede d'oro più un atleta che arriva dalla provincia di Belluna e ci sono altri due atleti ok la classifica dei 10 atleti del piede d'oro in questo momento è bravo anche Stefano Calusa in questo momento a traguardo bravissimi questo metto bravo si sussiedono adesso dovremmo aspettare il campo femminile perché fra qualche istante dovremmo vedere se mantengono i tempi dell'anno scorso fra qualche momento dovremmo vedere il campo femminile ecco il nostro Ferdi bravissimo Ferdi che sta rientrando un pochettino in forma a trovare in questo momento a traguardo ecco che se ci sono un'arrivo ormai siamo nell'ordine dei 20-25 atleti a traguardo ecco Marti e Andrea in questo momento a traguardo e ormai si stanno un pochettino mischando anche i 5 e i 10